Ultimo quarto di finale, l'uscita dal cancelletto di partenza da parte di Vizentin, piuttosto attardato, forza Omar, è in fondo il leader della Coppa del Mondo, adesso prova a scatenare i cavalli, si getta nella mischia Vizentin, ne sorpassa due in un colpo solo, in testa, adesso in questo momento c'è Leoni, Vizentin gli si affianca, passa in testa Vizentin, Vizentin, l'azzurro, l'alpino di Merano, è in prima posizione, la caduta di Leoni, no, proprio a causa di Vizentin, che pasticcio, Pullin è secondo, anzi adesso in testa Pullin, secondo Vizentin, terza posizione per Dibold, speriamo che non ci siano conseguenze per questa caduta, occhio Omar all'interno, sorpassato da Dibold, ma la terza posizione va bene, va bene anche la terza posizione, Alex Pullin se ne sta andando nel frattempo, seguito da Alex Dibold e poi Vizentin a questo punto dovrebbe essere fatto quasi il passaggio, ci ha fatto venire un coccolone